Uomini e donne anticipazione over, la lite fra Giorgio e Gianni Ritorniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci di tutto che sta succedendo al trono over di Maria De Filippi. Ieri pomeriggio infatti è stata registrata una nuova puntata dello show dedicata alle dame e dai cavalieri, dove non sono di certo mancate le discussioni, le liti e le polemiche. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Gianni contro Giorgio. Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over dove per la prima volta a litigare furiosamente non sono state Tina Cipollari e Cancelletto Gemma Galgani. Ma Cancelletto Gianni Sperti e Giorgio Manetti. I due uomini infatti da qualche tempo non fanno altro che litigare e discutere a causa di alcuni dubbi che l'uno ha nei confronti dell'altro. . Nello specifico possiamo affermare che da qualche puntata a questa parte Gianni Sperti nutre diversi dubbi sull'effettiva intenzione del Manetti di trovare una compagna a uomini e donne. . In poche parole Gianni pensa che Giorgio rimanga in studio soltanto per visibilità, business, serate e per promuovere il suo libro e non per altro. . In effetti c'è da dire che nell'ultimo periodo il Manetti in studio non si è decisamente comportato nel migliore dei modi né nei confronti delle donne del parterre femminile né. . Nei confronti delle nuove dame che giungono in studio ogni volta per lui. . Discussioni e sfilate di moda. . Nella puntata del Trono Over che è stata registrata ieri pomeriggio non si è parlato soltanto di Gemma, Giorgio, Tina e Gianni, ma si è discusso anche di Ida e Riccardo e Sossio e le sue dame. . Quest'ultimo infatti anche in questa registrazione ha saputo mettere in piedi insieme alle due donne che frequentano un vero e proprio teatrino fatto di liti e discussioni. . . Le due dame in questione non sono altro che Ursula e Bianca, le stesse ragazze che anche nella scorsa registrazione si trovavano al centro dello studio a litigare per la ruta. . . Per quanto riguarda la coppia formata da Ida e Riccardo, le cose per loro non sono molto diverse da come erano alcune settimane fa. . La coppia infatti anche ieri è tornata a discutere in studio a causa di alcune piccole divergenze caratteriali che fino ad oggi hanno caratterizzato tutto il loro rapporto. . Che è da aggiungere che nella registrazione avvenuta ieri le dame del parterre femminile non si sono soltanto occupate dei loro pretendenti. . . Ma hanno anche preso parte ad una sfilata organizzata per loro dal tema prettamente vacanziero. . 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 Grazie a tutti.